Allora, benvenuti a un nuovo episodio per Scrivo Facile, oggi parliamo di Amazon Ads. Come sapete, insomma, io sono un appassionato di Amazon Ads, li gestisco per svariati autori indipendenti, ho creato pure un corso, un videocorso sugli Amazon Ads. Insomma, mi piacciono gli Amazon Ads, li uso personalmente per i miei libri e sono lo strumento numero uno per promuoverli. Ovviamente poi mi affido anche ad altri tipi di marketing, vedi per esempio il mail marketing, tanto per citarne uno. Comunque sia. Allora, volevo parlare oggi di certe credenze che circolano attorno agli Amazon Ads e che veramente mi lasciano un po' basito. Il fatto è che a volte si trovano persone che cercano di darci lezioni sugli Amazon Ads, purtroppo avendo preso a loro volta lezioni dai personaggi sbagliati. E quindi c'è tutta una serie di credenze che volevo cercare di prendere in esame, per cercare di chiarire la situazione, ok? Ed evitare di fatti che magari buttiatevi i vostri soldi o insomma non riusciate ad utilizzare gli Amazon Ads come vorreste. Allora, anzitutto, una cosa che era venuta fuori ultimamente in un gruppo su Facebook era che, a quanto pare, gli algoritmi di Amazon, in base all'offerta, selezionino in maniera automatica i lettori di qualità da quelli non di qualità, ok? Quindi in pratica sarebbe che se noi andiamo a proporre offerte troppo basse, quindi mettiamo, non lo so, facciamo 10 centesimi per esempio, ok? Oppure 3 centesimi, il minimo è 2 centesimi, in automatico la nostra inserzione verrà portata davanti agli occhi di questi lettori di bassa qualità che non acquisteranno il nostro libro, oppure che l'acquistano e magari non lo leggono o cose del genere, insomma. Ma è quindi il trucco è alzare le offerte, quindi più alte sono, facciamo finta, 1 euro o 50 centesimi, quindi offerte già sostanziose e allora in quel frangente riusciremo a intercettare miracolosamente i lettori, quelli proprio buoni, quelli di alta qualità, quelli che acquistano i libri, quelli che li leggono veramente. Allora, se fosse così facile, non lo so, basterebbe avere un po' più di soldi e saremmo tutti quanti tranquilli perché in maniera matematica arriviamo davanti a queste persone. In realtà però devo anche dire che forse la realtà è anche meglio della finzione, perché il fatto di agire sulle offerte degli Amazon Ads, a parte che ovviamente intanto cerchiamo di capire, non è che gli algoritmi vanno a cercare, cercano di smistare tra lettori di qualità e lettori non di qualità, ad Amazon non ne frega niente, l'importante è che queste persone acquistino i libri, questo gli importa, ok? E quindi il concetto fondamentale è la rilevanza, ok? Quindi se il nostro libro è rilevante per la persona che si trova davanti alla nostra inserzione, avremo più possibilità di vendere e quindi è più probabile che gli algoritmi spingano la nostra inserzione verso quel tipo di persone, ok? Il resto non conta, ok? Poi detto questo, se noi andiamo ad agire sulle offerte, ciò si traduce in un numero di visualizzazioni, anzi di impressioni, come si dice in gergo, maggiore o minore in base all'offerta. Quindi, detto questo, se per esempio abbiamo un'offerta molto bassa, facciamo due centesimi, il minimo, ovviamente il numero di impressioni sarà ridottissimo, no? La nostra inserzione sarà visualizzata da poche persone, perché ovviamente stiamo soltanto puntando due centesimi contro magari altri che ne puntano, non lo so, facciamo un euro, facciamo 50 centesimi, facciamo 20 centesimi, ok? E quindi è più difficile che la nostra inserzione venga vista da tante persone. Allora che succede? Dobbiamo alzare, in quel caso, se vediamo che abbiamo poche impressioni, dobbiamo alzare l'offerta e quindi aumenteremo il numero di impressioni, di visualizzazioni, il che non si traduce in maniera necessaria in conversioni. Ovvero, non è che io aumento l'offerta, in automatico mi vendono molte più persone, quindi in automatico mi acquistano di più. Perché? Perché il fatto della conversione è legata ad altri fattori. Vedi, in primis, la sinossi, ok? Quindi, intanto sì, la nostra inserzione viene vista da più persone, però se la nostra copertina fa schifo, le recensioni non ce l'abbiamo oppure sono molto basse, ok? Magari il prezzo è troppo alto, eccetera, come possiamo sperare di poi convertire, quindi di avere più vendite? Contando magari anche che la gente poi clicchi, ok? La gente clicca solo se la copertina funziona, questo è prima di tutto, e quindi deve essere rilevante a quello che stanno cercando, ok? Quindi attenzione ai target, qui ritorna il discorso della rilevanza. Ma poi, anche se clicca, non è sicuro che poi in automatico acquisti, non c'entra niente col fatto che abbiamo aumentato la nostra puntata. Perché se trova davanti la pagina di Amazon e vede che la sinossi fa schifo, non gli sa di niente, è un libro che sembra che sia noioso, oppure non lo convince, oppure sembra che già immagina come va a finire, non lo acquista, ok? Quindi vedete che è tutto collegato, in realtà dietro c'è moltissimo. E gli algoritmi comunque di Amazon, perché sono tanti, non è uno solo, tengono a mente vari fattori, tengono in considerazione vari fattori, ok? Quindi uno, anzitutto, sicuramente è la rilevanza. Attenzione, mi raccomando, la rilevanza è importante, ci arriveremo poi con la seconda parte di questo video. Ma poi tengono in conto, per esempio, anche il BDSR, no? Quindi a che livello state nella classifica generale del Kindle Store, ok? Questa è un'altra cosa che moltissimi non sanno, ok? Poi certo, il fatto di quanto uno va a puntare, indubbiamente, ha un certo suo peso nel fatto di vincere l'asta. Perché poi, come funziona? Ci sono degli spazi pubblicitari limitati e quindi vanno all'asta. E per vincere l'asta servono una serie di elementi vincenti, no? Quindi se magari vediamo che il nostro libro ultimamente ha venduto di più con quel tipo di target, è più probabile che continueremo a vincere le aste per quel tipo di target rispetto ad altri autori che magari è la prima volta che si approcciano a quel target o che puntano quel target, oppure l'hanno puntato in passato ma le campagne non andavano tanto bene. Segno che probabilmente quel libro non valerà la pena di venderlo a quel tipo di persone legate a quel tipo di target. Ok? Quindi il discorso è molto complesso e tra l'altro è inutile fare i guru perché Amazon non ha mai esplicitato il funzionamento dei propri algoritmi. Algoritmi che tra l'altro, vi comunico, vengono regolarmente testati, sperimentati, migliorati, ottimizzati, modificati, eccetera, eccetera. Quindi a volte cose che valgono oggi, domani non valgono più. Vedi per esempio il fatto delle classifiche che una volta si potevano scalare facilmente con un libro gratuito e che ora invece non si può più. Perché? Perché all'inizio, anni fa, un libro gratuito scaricato equivaleva a un libro venduto. Quindi il livello era lo stesso, io faccio scaricare una copia del mio libro come se ne avesse venduta. Ok? Per l'algoritmi era la stessa cosa e quindi si scalavano le classifiche molto facilmente. Bastava che lo mettessi gratuito e bam, arrivava in alto e aumentava la visibilità. Ok? Dopodiché magari uno lo metteva a pagamento, però era già in alto e si godeva la discesa guadagnando perché tanto era già in alto. La cosa poi ovviamente ad Amazon ha cominciato a puzzare e ha cambiato le regole del gioco facendo in modo di ribilanciare i pesi e quindi ovviamente adesso le vendite valgono molto di più dei download gratuiti. Ok? Comunque sia, tornando a noi, un'altra cosa che mi ha fatto riflettere è che ci siano molte persone che si ostinano a intasare di target gli Amazon ads, le campagne degli Amazon ads. Ok? Non sto parlando di 200-300 target, sto parlando tipo di 1000 target o anche di più. Ok? E questo già bisogna entrare nell'ordine delle idee che va a inficiare la rilevanza, perché è possibile che 1000 target, 1000 parole chiave diverse siano tutte strettamente correlate, proprio molto rilevanti per il nostro libro? Veramente? Penso proprio di no. Ok? Quindi cerchiamo di concentrarci sulle cose che sono rilevanti, che siano strette per il nostro libro, che siano specifiche. Ok? Oltre a questo, gente che punta con 1000 target è semplicemente con un budget tipo di 10 euro. Ora, se noi andiamo a calcolare, mettiamoci nei panni di questi poveri algoritmi, no? Il loro lavoro è dire, ok, allora dunque tu mi dai a disposizione questi 10 euro con 1000 target. Io devo calcolare che mi hai detto che per ogni click io ti faccio pagare fino a, facciamo, non lo so, 10 centesimi o quello che è. Ovviamente se uno fa i conti non è possibile dare spazio a tutti quei 1000 target. Non rientrano proprio fisicamente in quel budget. Non è abbastanza. E quindi che succede? Non hanno abbastanza visibilità, le impressioni calano perché soltanto alcuni target hanno dei guizzi qua e là, ma quegli altri target che non hanno goduto di impressioni, probabilmente non hanno goduto di impressioni perché non sono rilevanti, allora dobbiamo spegnerli. Ok? Dobbiamo escluderli. Probabilmente non hanno potuto perché non hanno avuto spazio, non c'era abbastanza budget. Ok? Quindi non complichiamoci la vita, mettiamo pochi target ma buoni, lavoriamo su quelli, se non funzionano ne aggiungiamo qualcun altro, piano piano testiamo le cose. Ok? Però veramente ragazzi cerchiamo di utilizzare la testa. Ok? Perché comunque sia, cioè gli Amazon Ads sono uno strumento che funziona, che può veramente funzionare. Un'altra cosa che mi è venuta in mente, tra l'altro, ecco, volevo dirvi, è il fatto, la solita diceria, poi queste vengono poi dagli Stati Uniti, vedi tipo Brian Cohen, Brian Mix, eccetera, no? Sono loro i fautori del spaghetti on the wall style, quindi puntare migliaia e migliaia di target, poi vedere quali funzionano, quindi va a inficiare proprio in maniera totalmente negativa la rilevanza, ma sono gli stessi che poi ti vengono a dire, ah ma comunque sia, guarda, se vedi che qualcosa non va, non ti preoccupare perché noi sappiamo che la dashboard degli Amazon Ads è errata, non è corretta. Cioè, a volte, io spero che lo facciano in buona fede, no? Che insegnano queste cose in buona fede, perché a volte capita che c'è gente che deve far tornare i conti in qualche modo, allora sai, dice, vabbè, allora diciamo che la dashboard non funziona perché magari conviene di più, no? Così. Oppure che per darti i risultati delle proprie campagne, per farti vedere che funzionavano certi metodi, ti fa vedere il totale delle vendite, il totale delle vendite che include anche vendite organiche, oppure vendite magari ottenute tramite Facebook Ads e non ti hanno detto niente, o tramite mailing list e non ti hanno detto niente, ok? Ti dicono, guarda, io ho speso, non lo so, 100 dollari su questi target con gli Amazon Ads e ho guadagnato 10.000 dollari, no? Ma non è una cosa possibile, nel senso, certo che tutto è possibile, però non puoi farmi vedere i risultati parziali, ok? Di questo. E poi magari per supportare, no? Quello che dici, mi dici anche, no? Guarda, comunque sia, non fidarti della dashboard degli Amazon Ads. Allora, la dashboard degli Amazon Ads funziona perfettamente, ok? Se tu vendi un libro in maniera diretta tramite i tuoi Amazon Ads, viene registrata, ti viene registrata, solo che ti viene registrata entro 14 giorni. In realtà, molto prima, in realtà si può anche in poche ore, no? Appare. Ma il massimo è 14 giorni. Però, comunque sia, è inutile credere a queste bagianate che la dashboard non funziona. E poi c'è gente che ti viene anche a dire, Ah, ma guarda, però la dashboard non registra le vendite indirette, le vendite organiche. È grazie che non le può registrare. È una dashboard realizzata per gli Amazon Ads, per vedere se funzionano gli Amazon Ads. Quello ti dà... E tra l'altro, come fai a tenere traccia delle vendite organiche? Come fai a tracciarle perfettamente? Una vendita organica potrebbe essere che io vedo la tua inserzione degli Amazon Ads, ci clicco sopra, mi piace il tuo libro, ma non lo acquisto. Lo acquisto domani, ok? Quindi lo acquisto domani, spengo il computer, domani lo accendo. Il giorno dopo lo accendo, vado su Amazon, cerco il titolo del tuo libro e me lo compro. Te lo compro perché io l'ho visto ieri grazie alla tua inserzione, ma non l'ho comprato in maniera diretta in quel momento quando ho visto l'inserzione. Quindi come fa ad apparire per magia nella tua dashboard degli Amazon Ads? Cioè, ragazzi, cerchiamo di utilizzare la testa, se abbiamo un po' di sale in zucca, e capire come funzionano certe dinamiche, ok? Quindi detto questo, io non voglio offendere nessuno, voglio cercare di fare luce su certe credenze che purtroppo ultimamente si stanno facendo largo, perché la gente comincia con un po' di inglese, va a cercare di studiarsi i grandi guru del mercato anglosassone, self-publishing internazionale. Ci sono i guru buoni e ci sono i guru cattivi. Comunque sia, dobbiamo sempre prendere le cose con una certa criticità, ok? Quindi anche quello che vi dico io, se non vi convince, siete liberi di pensarlo, andate a testare le cose, testatele voi, non fidatevi di quello che vi dice chiunque, di un Eugene Pitch chiunque, ok? Quindi, questo è l'importante. Detto questo, io vi auguro tutto il meglio per i vostri Amazon Ads. Se vi serve una mano, date un'occhiata al mio corso. Sono aperte di nuovo le iscrizioni, primo corso sugli Amazon Ads. Il corso più completo che c'è al momento sugli Amazon Ads, ed è stato il primo corso in Italia sugli Amazon Ads italiani. E quindi, insomma, un po' orgoglioso di quello che ho fatto. E va bene, dai, ci siamo. Cerco sempre di tenerlo aggiornato. Date un'occhiata, se vi è piaciuto questo video mettete un like, condividetelo, eccetera, eccetera. Io sono Eugene Pitch, sono qua a vostra disposizione, in diretta dal Giappone. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!